Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi c'è l'ultimo appuntamento con Rumi, l'ultimo appuntamento che riguarda una delle cose più tipiche di Rumi, diciamo così. In realtà non tanto di Rumi in sé, come vi ho già spiegato nel video sulla biografia, ma sicuramente di fatto di coloro che da lui hanno appreso. Ovvero la famosa danza roteante dei Dervisci. Questa è una danza tra l'altro molto particolare e ci tengo a fare alcune specifiche prima di partire, perché purtroppo io sostanzialmente ho trovato tutto quello che c'era da sapere su questa danza. Ma l'ho trovato qua, in questo libro qui. E qui sono essenzialmente tre pagine, quindi visto che io non vi voglio annoiare troppo, anche perché ci sono un sacco di cose che sono tecniche, tutto il rituale preciso, con tutti i vari dettagli, simbologi eccetera, lo troverete dentro la sezione extra del Patreon. Mentre appunto qui troverete qualcosa che comunque vi darà diverse basi per comprendere tutto il meglio, vi darà l'infarinatura iniziale, però poi manca il rituale in sé. Lo dico proprio tranquillamente così, uno mi dice, oh guarda, ah sì, bastardissimo, cattivo, metto anche in dislike e me ne vado via. Invece magari qualcuno che più apprezza potrebbe addirittura mettere il like e dire, oh grazie che non hai fatto la carogna facendo la sorpresa alla fine. Comunque questi sono dei dettagli, in più vi ho anche già detto dove andare a recuperare, vi ho anche già detto che se vi comprate questo che però viene 50 euro ed è in tutta una serie di sei libri in realtà che sono dietro di me, tra l'altro quelli lì, allora è meglio ancora perché avrete tutte le varie informazioni ancora più precise. È un fantastico libro. Vi dicevo però solo un'ultima cosa, ovvero di iscrivervi al canale Telegram, pagina Instagram per essere sempre aggiornati. Perché vi dicevo, questa danza mistica, prima di iniziare vi devo fare anche un'altra precisazione in realtà, questa serve quasi più per il nome, ma almeno capite, perché mi piacerebbe chiamarla in una maniera specifica, ma in realtà non c'è là, perché questa non è nient'altro che una versione del Sama, ok? Cos'è il Sama? Allora, nel mondo islamico ci sono diversi riti supergatori, diciamo così, ok? C'è la preghiera che è obbligatoria, tutto quanto, e poi ci sono diverse altre cose che uno può fare per connettersi ancora di più al proprio Signore. La cosa tipica che si fa è il zikr. Zikr vuol dire ricordo. E vi faccio un esempio, al Ramadan in moschea si recita tutto il Corano dall'inizio alla fine, ok? Ok, a Ramadan, quello è sicuramente zikr. Ricordare i nomi di Allah, quello è certamente un zikr. Ricordare magari degli attributi a zikr, 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 zikr. Perché zikr è appunto il ricordo, ok? Sama è una cosa diversa. Sama è affine ovviamente a quella cosa lì, perché comunque si sta provando ad entrare in contatto con il proprio Signore e tutto quanto, ma è proprio l'origine della parola che è diversa. Mentre zikr, come vi dicevo, è ricordo, sana vuol dire ascolto, audizione, ok? C'è una frase bellissima, tra l'altro, che io tutte le volte che la leggo mi incanto e che trovate appunto in questo libro qui, che effettivamente, devo dire la verità, la descrive molto bene. La descrizione che dà appunto Gabriele Mandelhan, traduttore di quel libro lì, e oltre a questo anche uno degli sufi più importanti che ci sono mai stati in Italia. Lui dice nello specifico Nel sufismo indica il concerto spirituale ritualizzato, che può indurre stati di grazia, ahuel, destasi, ushdud, o portare a disveramenti spirituali. E, continuo con le citazioni così poi non cito mai più, c'è anche un'altra citazione bellissima che ho trovato sempre in quel brano lì, e questa invece è di un grande sufi egiziano precedente a Rui. Lui disse Prima di compiere il viaggio, credevo che le montagne fossero montagne e i mari fossero mari, mentre durante il viaggio scopri che le montagne non sono montagne e che i mari non sono mari, ed ora che sono giunto so che le montagne sono montagne e che i mari sono mari. Quindi, proprio perché questo tipo di esperienza è un'esperienza che davvero trascende qualsiasi cosa. Per il sufi questo è proprio il modo di entrare in contatto con Dio, è un'audizione, ok? È un ascolto, ma un ascolto di entrambe le parti, proprio perché entrambi in quello stato lì, ovvero il sufi, colui che vuole appunto accedere a quell'audizione lì, cioè, è qualcosa che non si può descrivere, ok? A chiunque ve lo chiederà, vi dirà, è una cosa indescrivibile, ma è il tipo di esperienza che più avvicina l'uomo al proprio creatore, ok? E questo però ci tengo a specificare che, vi ho detto prima, un sufi egiziano precedente a Rumi, perché questo sama non si fa solo con la danza, ci sono tante modalità diverse, ogni scuola sufi ha il suo metodo specifico, ma in generale ci sono anche tante famiglie. Io banalmente so che c'è gente che, non vorrei dire cavolate ovviamente, ma so che canta per entrare in questo stato. C'è altra gente appunto che, come abbiamo visto, danza e c'è tanta altra gente che fa anche cose che sembrano non c'entrare niente, ma proprio perché ogni scuola sufi ha comunque un suo modo di fare questo sama, che comunque, per quanto magari può essere simile, è diverso dagli altri, e quindi abbiamo veramente tante versioni. Volendo andare a approfondire questo, questo diciamo che ha anche delle condizioni particolari in sé, perché, come saprete, è un ballo, nel ballo ci si muove, e per questo tutta la cerimonia è molto particolare, proprio per quello che ho potuto inserirlo. Se erano due o tre cose, riassumibili facilmente, allora ok, ma qui stiamo parlando proprio di un viaggio vero e proprio, un viaggio che in un certo senso racconta tutto, in questo rituale c'è veramente qualsiasi cosa. È bellissimo, dico la verità, adesso appunto ve ne spiegherò qualcosina, però è veramente ricco, anche un po' troppo di significati, cioè ogni singolo aggetto, ogni singolo colore, ogni singolo movimento, hanno tutti una profonda simbologia, e si legano a il voler sempre di più raggiungere, proprio signore, ma appunto partiamo subito. Sostanzialmente anche la stanza nel quale si svolge tutto non è una stanza come tutte le altre, ok? È una stanza, abbastanza grande di solito, divisa in due parti, ok? Ed è divisa in due parti da questa linea. Questa linea viene soprannominata Equatore, e questa linea è l'unico, cioè su questa linea ci può passare solo il Qutb. E lo Qutb vuol dire polo, e il polo della cerimonia è di fatto colui che la dirige, potremmo dire così. Su questa riga fra l'altro ci sono, ah mi sono dimenticato, poi i lati sono, il lato destro dovrebbe essere quello del mondo materiale, e quello sinistro del mondo spirituale. Spero di aver detto bene, se no come al solito appunto vi esce il asterisco, no in realtà è così. Il fatto sta che appunto una parte della stanza significa una cosa, una parte l'altra, ed essenzialmente su questa riga vengono messe due cose sui capi, ok? Sulla riga che taglia tutto quanto a metà. In un lato viene messo una pelle di montone tinta di rosso, e questo è il simbolo della manifestazione di Dio negli esseri umani. Mentre appunto, e dove anche se si è del Qutb, per essere chiari. Mentre dall'altro lato della stanza invece, sono posti delle, sempre delle pelli di montone, in questo caso dovrebbero essere bianche se non erano, ma comunque delle pelli di montone, dove invece si metterà l'orchestra. Questo al lato opposto, invece di dove è situato appunto questa pelle di montone, che avrebbe anche un nome tecnico, non l'ho inserito. Lo inserirò appunto dentro la parte extra, per fare ancora pubblicità. Detto ciò, oltre a questo ovviamente ci sono anche i danzatori, come immaginerete. I danzatori si mettono di fatto intorno a questa linea, a quanto ho capito, ma non c'è una... è un po' più libera la disposizione. Però, poi c'è il rituale che ha delle cose molto precise, come vi dicevo, e anche tutta una serie di colori. Perché? Perché questo rituale inizia che non c'è rumore, ok? Niente. Anche perché si intende il vuoto, anche l'assenza di movimento, l'assenza di vibrazione, quindi il silenzio, come quasi la nascita primordiale, ok? Solo Dio è silenzioso, fra virgolette. Già una vibrazione vuol dire in un certo senso vita, e quindi altri esseri. Non è un caso che prima dei danzatori entrino qui appunto i musicisti, che appunto con i loro canti, i mevlevi, danno vita di fatto a tutto l'ertuale. Dopo di loro arrivano qui invece appunto i danzatori. I danzatori che, adesso ci arriviamo, ma sono vestiti in maniera particolare, e che per entrare fanno la circumambulazione, ah, sono riuscito a dirlo giusto, una volta di idea di quante volte l'abbia ripetuto, della stanza. La fanno tra l'altro in senso anti-orario. Questa, con questa parola complicatissima per me da pronunciare, è essenzialmente anche questo simbolico, ed è necessario che sia proprio quella parola lì. Perché? Perché c'è un altro posto dove si fa la stessa identica cosa, ovvero davanti alla cava, dove si fa esattamente la stessa cosa. Quindi si gira intorno, in senso anti-orario, proprio intorno alla cava. E appunto questi danzatori non sono vestiti in camicia e pantaloncini, naturalmente. O meglio, i pantaloncini no, ovviamente, però hanno addosso questa khirka, che sarebbe questo mantello nero, che simboleggia la terra di fatto, le passioni terreni, non so come dire quello. Poi hanno un cappello lungo e marrone, che simboleggia la pietra tombale, e poi hanno appunto sotto la khirka questa tunica, questa camicia bianca, diciamo così, che simboleggia invece il distacco dalla materia. Una volta che loro si sono seduti, poi hanno anche dei pantaloni particolari, questi effettivamente non li ho inseriti, perché a quanto ho capito sono importanti, ma è più importante questo aspetto, anche se se una vestita in maniera diversa non lo fanno entrare, per essere chiari, una cosa è giusto così. E poi, appunto, dopo tutti questi, entra effettivamente il khutb. Il khutb è particolare a sua volta, perché anche lui, appunto, ha dei vestiti molto diversi rispetto al solito, molto particolari, e una volta che entro al khutb saluta tutti, e appunto i vestiti particolari che vi dicevo sono un copricapo nero, avvolto da un turmante nero o verde, oltre a tutta una serie di altre cose, che però, ripeto, non posso specificarvi. Mi spiace davvero andare in questa cosa un po' tronca, però mi fa piacere che vi avevo avvisato prima e che c'è un luogo dove potete trovare, sia a casa vostra, comodamente, con questo libro che potete comprare da Bonpiani o dove volete, e se no, appunto, con la sezione extra che potrete avere nel Patreon, nei migliori interintorni. Spero davvero vi interessi, a me l'ho trovato molto interessante io, anche se, va detto, ci sono veramente alcune parti molto tecniche, ma funziona così, quindi non si può veramente tralasciare nulla. Detto questo, la settimana legata al mondo Sufi di questo mese finisce qui, tutti i pacchetti Patreon arriveranno veramente a breve, a breve ci organizzeremo anche per fare questa live con Francesca Boccaldacre e la live invece con me, relativa al Masnavi, e niente, il prossimo, come vi dicevo, sarà Farid Adin Atar, di questi Sufi che tratteremo più approfonditamente e tutti quanti insieme, con il verbo degli uccelli. Mentre la settimana prossima avrete invece delle spezie, abbiamo la curcuma, la noce moscata e i chiodi di gherofano, che verranno proprio approfonditi. La settimana prossima, detto ciò, io vi saluto davvero e noi ci vediamo, come vi ho detto, alla prossima. Iscrivetevi al canale Telegram, pagina Instagram per essere sempre aggiornati su quello che esce.